Per quanto riguarda i giocatori americani mi aspetto molto da Casper Ware di Casale Monferrato e da Charlie Westbrook di Verona e poi non nascondo che anche il nostro DJ Gay spero che possa fare un campionato importante. Per quanto riguarda gli italiani ci sono tanti italiani di valore, tanti italiani magari che scendono anche dal campionato superiore parlando che potranno fare sicuramente bene, mi viene in mente Gari, mi viene in mente Righetti. Per quanto riguarda i giovani, anche qui è un giocatore sicuramente di grande crescita in futuro, è Amedeo Tessitori appena preso da Forlì e poi speriamo anche il nostro Mirko Turell di Imola.